Alla maleducazione non c'è mai fine, l'abbandono dei rifiuti sembra prevalere su qualsiasi forma di rispetto della comunità, ma negli ultimi tempi le cose sembra stiano cambiando grazie anche ai servizi di videosorveglianza che vengono collocati in punti strategici dei territori e proprio grazie a queste fototrappole sono stati individuati alcuni responsabili di questi scempi ambientali. I carabinieri di Stilo infatti hanno scoperto due aree destinate a discariche abusive, di cui una in pieno centro abitato e l'altra incontrata a Burrao, con rifiuti solidi urbani, pneumatici, lavatrici, frigoriferi, rifiuti edili, mobilio, persino parti di autovetture, il tutto che veniva scaricato addirittura per la spazzatura casalinga lanciato dai finestrini e delle auto in corsa. I militari dell'arma sono riusciti grazie alle immagini a risalire ad alcuni responsabili. In un caso si è risalito al colpevole dell'abbandono perché su un vecchio paraurti risultava ancora impressa la targa. In altri grazie al numero della partita EVO al nome delle società presenti sui timbi trovati in mezzo a quelle che sono diventate vere e proprie discariche abusive. Le indagini hanno portato alla denuncia di quattro rappresentanti di imprese ritenuti responsabili di aver smaltito illicitamente rifiuti speciali per conto delle rispettive ditte e sono state elevate 11 multe per quasi 7 mila euro nei confronti di privati cittadini sorprese da abbandonare i propri rifiuti solidi urbani e speciali.